Moschella, Granata ha commesso un irrimediabile errore di grammatica politica da matita blu, chapeau. In una nota posta su uno dei nove gruppi WhatsApp del quotidiano Libertà Sicilia, Fabio Moschella commenta così le recenti polemiche su Fabio Granata che con la sua dichiarazione sul terzo polo all'indomani del Comitato per Siracusa, capitale della cultura, ha commesso un irrimediabile errore di grammatica politica da matita blu. Moschella dice che in un colpo solo ha rotto il clima di coesione politica che si era determinato nell'incontro del Vermex alla presenza di federculture e civita. Ha ricompattato il centro-sinistra e il centro-destra, un miracolo. Indebolito la ricandidatura del sindaco uscente. Riproposto lo scenario di un consiglio comunale ostile, presente e futuro, inviato al ministro della cultura Franceschino un messaggio particolarmente insidioso. Chapeau. Sull'argomento interviene Paolo Zappu, la ex segretaria provinciale della CGL. Fabio prova a immaginare un scenario in cui Italia non sia candidata al sindaco. In questo caso la dichiarazione di Granata avrebbe molto senso. Ricordiamo che Fabio Moschella aveva concorso alla candidatura a sindaco e al ballottaggio e aveva stretto accordi per la candidatura a sindaco di Francesca Italia ottenendo un posto in giunta. Lo stesso aveva rassegnato a luglio 2020 le dimissioni della Giunta Italia. Tra le motivazioni che lo avrebbero portato a rassegnare la delega sempre ci siano state alcune frizioni con il sindaco Francesca Italia e con il Partito Democratico. Fabio Moschella, con il primo cittadino, scaturirono diatribe soprattutto dopo l'avvicendamento dell'assessore Giovanni Randazzo con l'assignazione del ruolo di vice sindaco al fedele per Paolo Coppa e con il PD perché alle ultime riunioni si era già discusso anche in sua assenza del prossimo rimpasto che lo vedeva in uscita. Insomma, nel centro-sinistra c'è stato sempre un certo malcontento dovuto alle anime interne del partito. Non c'è pace tra gli olivi.